mentre sto giocando adesso ti arriva il messaggio guarda questo premi il tasto se ci stava ritirato tutto lo spendo dai spendo? si è cotto? se ci stava ritirato tutto che significa che ci stava ritirato ma che ci deve aggiungere un po' d'acqua va bene, lascio la spendo ma perché spono sempre davanti alla gente quando spono su di te? è bella domanda Rafa, se te premi il tasto PS occhio che arriva uno col fucile guarda che merda questo tasto PS vai nelle notifiche a parte che te lo dovrebbe dire nella schermata iniziale della Playstation che io sto giocando e c'è il live che tu puoi vedere questo behind the moose come avrà ucciso 18 volte aspetta che torno subito vado a controllare che c'è il segno tu intanto avvia grazie a tutti come? si? Ok, si Free e se è free dovrebbe fartelo scaricare Quello di Però quello di Davide dovrebbe essere live Sì, sì, è live Te lo trovi Appena accendi la Playstation Te lo trovi in basso In basso, nelle notizie Nelle notizie nuove Ci dovrebbe essere che io ho iniziato live Eh, allora tu ci clicchi sopra e te lo fa partire No, quello no Quello è un video che io ho fatto Magari lo L'ho salvato e te lo fa vedere Allora Fai delle notifiche Nei messaggi E ti dovrebbe dare Eh, sì, perché Te lo fa vedere su YouTube Sì, sì, sì Ti dice che la trasmissione è ferma? No, adesso ci sei Ti vedo io che stai guardando Quindi evidentemente si è collegato Ehm, eh, non lo so Ma è strano Che per un attimo Ho visto che ci stavi Che stavi vedendo Perché io riesco a vedere Chi mi vede Eh, può essere pure Eh, sì, 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 sì Ah potrei assicurare che sia la connessione potrebbe essere a parlare potrei assicurare che ce la fai però il video è più pesante boom tripla tripla con l'anticarro brava questi moci flancano e ci fanno il culo che noi siamo incastrati qua ci avete amici là prova prova da youtube si aspetta un attimo da potete dare munizione ok in fondo ci sta gente dovresti sentire anche la voce si ti vedo che ci sei si cristo eh certo ma sicuramente ah beh sì quello sì quello è normale ah no questa è è ah è pieno di gente qua siamo incastrati ma 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 si è perché è normale all'inizio non non si capisce bene però è grande la mappa c'è questo solo in un punto ah ti si vede male ahaha ahaha vabbè quello è normale che dovresti mettere in pausa secondo me Il fatto che stai scaricando il gioco Se la metti in pausa ti si vede meglio Prova a mettere in pausa e cambia C'è questo no scope con martini a rifanteria Evidentemente va più lento No perché prima ti scaricava una velocità E poi è diminuita quella velocità E quindi diminuisce pure il tempo Eh ci dovrebbe essere il tasto Ma non mi ricordo di preciso Attenta dai le spalle Eh lo so Io me le devo andare da qua che sto in mezzo alla merda E' morto No tu devi cliccare No no tu devi andare sul gioco Sull'icona del gioco che stai scaricando Lo premi E lui ti apre la schermata del download Di quello che stai scaricando E da là lo puoi mettere in pausa Non so neanche la di mente Allora non lo so Perchè mignotta Sono sempre tra 13-14 Ogni volta che ti uccidi uno Te ne fanno trovare altri Sono dietro Sono là in fondo Verso alfa In questo momento non ci sto capendo niente C'è gente? Allora stare tutti ammucchiati qui Non è che serva un gran che Andiamo verso delta Eh mi sembra strano Non ci sto capendo Casciato Io qua sto in mezzo a un panino qui Arrivano dappertutto Ah là è tosse C'è il carro Alla è buon C'è la madonna Meno male ci sta sto scioccia qua Che ogni colpo praticamente lo sdovi Però se non c'ha zecchi Trovi quello con le righe Ti monta Occhio che ce n'è uno qui Fatto Ma com'è possibile Sempre uno in più Dovrei andare a mangiare E' pure il carro Ma com'è possibile Non c'è la mangiare Faccio il giro eh Fa il giro perché Questo mo' mi viene a prendere a me Lo prendi alle spalle Io so no eh E' morto Occhio Ok Tu sei andare a bravo Oppure no Eccoti Che è successo No Ha taken a shot Ah ok Esatto Dove c'è il download Poi metti pausa Giusto Sì sì Dovrebbe essere Nella schermata principale Ce la dovresti avere Sta là eh E l'ho preso Grande La balestra da lancio Grandi soddisfazioni Sì sì sono sdraiati sotto il cavolo si uno deve essere tipo nelle scale aia arrivai nelle notifiche ci dovrebbe essere ancora ma la trasmissione io stanno hanno ancora la connessione mi sparano c'è un cecchino qui è da là in fondo però dove cazzo sta sto stronzo stanno nell'angoletto oh va il di franco le vado a prendere sono visto arrivare questo ora provo a vedere se ti possa rinviare allora allora non ti posso rinviare il dove stai giuda sono il vicoletto stai andato tipo a eco no erano il vicoletto quello dietro charlie ok questi arrivano da bravo io sto girando qua su bravo giusto di passaggio no c'è un carro su delta che sta facendo un casino occhio che mi sa che sale uno dove stai tu eh? ah io sto in basso, sto cercando di fare il carro ah ok l'ho fatto è la sentinella in mezzo alla strada riesce a vedere adesso? sì sì è la mia, è la mia è in prima persona quindi vedi solo me perché sto trasmettendo io eh quella è la connessione non puoi fare niente muoio muoio però uccido anche sto merda sto stronzo è saltato di sotto mentre gli sparavo qua a fianco al treno è un macello eh stiamo perdendo Charlie bisogno di un medico mannaggia il demonio medico, medico otto metri, sette, sei, cinque grande medico grande medico grande medico abbiamo fatto un obiettivo stanno nelle case di fronte dall'altra parte non so se l'hai notato ne stanno un paio solo che loro hanno notato anche me e quindi mi stanno sparando a merda guarda questo dove sta cazzo di sto shoshah è forte ma ha 20 colpi 20 colpi e lenti quindi se ti arrivano in 2-3 ne fai 1-2 e dopodichè muore perchè ho fatto lo spawn qua perchè perchè si rinascere si 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 puoi scegliere e se sbagli muore un'altra volta come sta per succedere a me che ho fatto una scelta brutta oh ragazzi vi saluto devo andare a mangiare eh vado anch'io a mangiare sto morendo di fame buona serata ah figurati Rafa ci risentiamo se lo prendi fammi sapere che giochiamo insieme ciao 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 ciao